In compagnia di Ivan Jacques, finalmente con il sorriso tra le labbra per la prima vittoria casalinga di questa stagione. Buonasera a tutti, penso che questa partita la conclusione che possiamo mettere sopra il tavolo è che abbiamo giocato quello che abbiamo fatto come piano di gioco. Penso che alla fine questo è l'importante, posso dire che l'obiettivo di questa settimana era arrivare con un chiaro piano di gioco per farlo 50 minuti, cosa che è mancato fino adesso praticamente in tutte le partite, che non è facile, però dopo di questi due mesi e mezzo possiamo dire che questo gioco lo abbiamo fatto come lo abbiamo lavorato. Per i ragazzi penso che è importante perché sì, è vero che alla fine con tre pareggi in casa è più difficile con questa sensazione e non è arrivata la vittoria. Però io sono tranquillo perché questa vittoria è frutto del lavoro, abbiamo lavorato bene, non abbiamo potuto mettere tanti minuti di pista per queste due giornate che abbiamo fatto. E niente, domani a continuare a lavorare. Diciamo che è una serata che poi si è conclusa con la ciliegina sulla torta, come si suol dire, con il gol da più di metà campo di Zucchetti. Sì, 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 sì. Veramente penso che con questa situazione che abbiamo sofferto della palaferma, che avevamo visto che era il tiro di lì, non so che è successo. Abbiamo ottenuto magari una cosa per vedere e farlo meglio la prossima. Non è malafortuna perché non esiste per me. Però era una lastima, un pareggio perché penso che hanno lavorato tantissimo bene. Oggi ai ragazzi non ho niente di dirgli. Perfetto, grazie. Grazie. Grazie.